Prima però vediamo il primo servizio di oggi e poi torniamo in studio. Si chiama Wise Mirror ed è uno specchio un po' magico che si prende cura del nostro benessere. Basta riflettersi dentro per avere una valutazione del nostro stato di salute con particolare riferimento al rischio di sviluppare malattie cardiometaboliche. Noi siamo partiti proprio dall'idea di sviluppare uno specchio intelligente in grado di aiutare le persone a star meglio. Quindi capire innanzitutto quanto bene stanno e poi fornire dei suggerimenti perché stiano sempre meglio. Lo specchio è in realtà un'innovativa piattaforma multisensoriale messa a punto da 11 istituti di ricerca che hanno collaborato a Semeoticons, un progetto europeo coordinato dal CNR di Pisa. L'idea era quella di realizzare uno strumento in grado di leggere lo stato di benessere di una persona senza analisi invasive, semplicemente osservandone i lineamenti e il comportamento. Un po' come fa il medico che dall'aspetto del paziente è in grado di indirizzare gli accertamenti diagnostici da eseguire. Da vecchio medico devo dire che la semiotica rimane fondamentale. Noi possiamo parlare di e-learning e medicina ma il contatto e soprattutto guardare bene in faccia il paziente ha sempre il suo significato. Lo specchio ha una opzione in più, cioè quella di poter dare una quantizzazione di alcuni aspetti che per il medico sono sostanzialmente aspetti qualitativi e che comunque hanno una loro valenza. La ricerca di Semeoticons non ha fatto altro che applicare lo stato dell'arte e della tecnologia ad una pratica antica. Lo specchio, o meglio il computer e le telecamere che nasconde, ricostruisce il volto in tre dimensioni di chi gli sta davanti e lo analizza alla ricerca di segnali indicatori della malattia. Dopo tre anni di ricerche e di prove su centinaia di volontari è stato realizzato un prototipo in grado di dare anche dei consigli su cosa mangiare e quanta attività fisica fare. Sulla base appunto dei parametri valutati dallo specchio, sulla base anche delle informazioni fornite dallo stesso utente, lo specchio dà dei suggerimenti per migliorare lo stile di vita, aumentando quindi l'indice di benessere stesso calcolato dallo specchio, riduciando quindi il rischio di sviluppare una malattia cardiometabolica.